Allora Goran, due anni fa eri in campo nella finale Scudetto Perza, oggi sei in panchina, è andata male anche questa volta. Due anni fa mi hai detto che eri però orgoglioso della tua squadra questa sera. No, non posso dire niente ai ragazzi, complimenti a tutta la squadra per tutto il percorso di playoff, ci hanno regalato emozioni uniche, forti, siamo arrivati in finale, buttando fuori due squadre di assoluto valore, nessuno poteva prevedere che giocavamo la serie finale. Mi rimane ramarico perché non siamo riusciti a vincere una partita in questa serie, devo dire onore ai vincitori, stasera eravamo più vicini che mai ma alla fine ci manca sempre qualcosa. I ragazzi hanno lasciato il cuore stasera in campo, abbiamo condotto quasi sempre la partita al nostro favore anche nel quinto set, Poi non siamo stati capaci a chiudere e riaprire la serie, brava Modena, rischiato, qualche battuta anche sulle righe. Sì, dalla parte nostra un po' più c'è stata tanta determinazione a portare avanti alla fine il tie break. Complimenti a Modena, poi complimenti veramente ai miei ragazzi perché sono molto contento, siamo tornati in Champions, una competizione di assoluto prestigio, questo è anche merito loro, hanno saputo reagire a mille difficoltà quest'anno, hanno dato tutto nel play-off e speriamo di riprovare l'anno prossimo. Grazie a tutti.